Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1, 3 km di coda per incidente tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico, in direzione Bologna. In A12 ci sono code allo svincolo di Versilia in entrambe le direzioni. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, rallentamenti per oggetti su strada prima di Popiglio. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto, in direzione Cecina. Sulla tangenziale di Siena, chiusa una corsia per lavori prima dello svincolo di Porta San Marco, in direzione Siena Nord. Sulla statale 3 Bis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Balsavignone e Canili, in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!